A richiedere la sua espulsione è stato il vice premier, nonché leader indiscusso del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio Parliamo naturalmente di Andrea Mura, il deputato grillino finito alla ribalta per le sue assenze in Parlamento, è stato espulso dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle Ad annunciarlo sul blog delle stelle è Francesco D'Uva, capogruppo del M5S, alla Camera Ognini singolo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha il dovere di rappresentare esclusivamente le istanze dei cittadini, sottolinea D'Uva Ognini singolo portavoce del Movimento 5 Stelle deve svolgere il proprio incarico dando priorità solamente agli 11 milioni di italiani che lo scorso 4 marzo hanno votato per il Movimento Per tale motivo non è tollerabile l'atteggiamento del deputato Andrea Mura che con il 96,8% di assenze in Parlamento, ha dimostrato irresponsabilità e minifreghismo, mancando di rispetto agli italiani Che hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle e a tutti i suoi colleghi che non hanno mai smesso di lavorare in Parlamento Continua dopo la foto, per tale motivo, senza alcuna esitazione, Andrea Mura è stato espulso dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle Un portavoce del Movimento 5 Stelle è chiamato a svolgere la propria attività sia sul territorio, tra la gente, che tra i banchi del Parlamento scandisce dove da anni, portiamo avanti tutte le nostre battaglie a favore dei cittadini Non è accettabile che un portavoce del Movimento 5 Stelle pensi di poter svolgere la propria attività politica da una barca, o da casa sua, snobbando l'aula di Montecitorio Continua dopo la foto, ci sono delle regole Condivise da tutti, che devono essere seguite con correttezza Chi non rispetta le regole non può far parte del Movimento, conclude Duva. Cosa succederà quindi adesso a Uva? Con molta probabilità entrerà a far parte del gruppo misto ma non perderà la sua poltrona Starà a lui scegliere di dimettersi, facendo spazio a un vero partecipante o restare in carica, e in barca, ma con tanto di stipendio di circa 12.000 euro Continua dopo le foto, Mario Pudu candidato in pectore del M5S per le prossime regionali in Sardegna, cavalca l'espulsione di Mura. Con altre forze politiche si possono fare intere carriere politiche non andando in Parlamento, ma non col Movimento 5 Stelle Da noi resta solo chi segue le regole. Per chi vuole solo una poltrona non c'è spazio Mura era stato candidato per fare il parlamentare col Movimento 5 Stelle, quindi a patto di seguire delle regole precise Ti potrebbe anche interessare Ti potrebbe anche interessare I A A A A A A A